Va bene, a questo punto sapete che il momento più basso della serata è stato toccato Acqua minerale, pizza, coca cola, Suki! Oh! Suki! No! Suki! Ho capito! Come ho capito? Suki! No, ho capito! No, ma quello è grande! Oh! La vergogna! Oh, giappone! Le multe che ci ha fatto prendere! Però è ignoranza, dai, diciamo che è ignoranza È ignoranza Parliamo all'editore, parliamo al pubblico che sta querelando a mai finire Questa parola, mi dispiace dirvelo Ma lo diciamo chiaramente, questa parola in giapponese vuol dire amore, Suki E non ci dici vuole dire Suki a capottare Cioè, ci metto un carro Vuol dire amore Amore, vogliamo dare colpa all'amore, signor? No, non si può dare Che il vocale dell'amore Mia azienda si chiama Suki Amore E diciamo, però per evitare qui, signor Abbiamo fatto il nostro sito internet, dove dentro questo sito c'è scritto la Toria Le origini, i prodotti, i ritoranti, nuove petture Si può entrare in questo sito? Sito Suki, puoi entrare! Cioè, come fa? E fa il sito Suki, scrivi Eh, no, non fa leggero! No, dico, se metti amore Sito amore, ci vuoi entrare Non devi scrivere Suki, Sito Suki, se no non è entrare, signor Ora, questa settimana parliamo di canne Di canne? Suki brociolone Suki brociolone perché è buonissimo Diretto è pesante Perché? No, niente, equivocato No, io voglio dire una cosa importantissima Ci butta gente che palla senza tapere Oh, ma queste canne Chissà da dove vengono le loro canne Chissà gli animali E loro hanno un macello Noi abbiamo il nostro macello, signori Ce l'hanno? Sì, e tutti quelli che parlano male Diciamo Macello Suki No Macello Suki nostro Macello personale Dove teniamo cose? Ok, no, così però detto Sembra ma... va bene Cosa sembra, signor? Non si preoccupi, lei comunque è veramente equivocato Sì Arrucazione Io sono sto... Arrucazione mia Arrucazione Arrucazione Ma io ce l'ho l'educazione E va, che vuole? No, il mio assistente domicilio Si chiama Arrucaziong Ah no, no, questo è forzato Arrucaziong Tafile, compà Arrucazione Più libero Ma come? Il giapponese un tafile Comunque io sono qua Ho portato Suki qua Mi ha detto il mio assistente Di portarlo a Mickey Rourke E io ho portato qua Mickey Rourke è comunque una persona sola Quindi ho bagliato Eh sì Fai chiamare qua Perdo, scusati con la gente Arrucazione Ho sbagliato l'arrucazione Sì, perché vabbè Licenziato Ma io che do scusa Il nome di mia azienda Che do scusa Abbiamo bagliato e quindi Sucate No, scusate Con la C Ah, sucate C Allora Vabbè Lasciate Allora, io vado Pello che è bello Abbiamo aperto punto vendita in Sicilia A Ragusa In un piccolo paesino a Comiso Solo che la gente viene A questo ristorante Però non sa come mangiare E noi gli spieghiamo Come mangiare il prodotto Eh, che cosa le chiede? Comiso Suki Comiso Suki E pure che domande gli fanno Cioè, che cosa le chiede? Le domande